Vaccinare la quasi totalità della popolazione studentesca in provincia di Salerno per arrivare all'apertura dell'anno scolastico con la ripresa in presenza è l'obiettivo al quale lavora l'asla di Salerno anche alla luce dei danni accertati provocati dalla DAD che ieri ha bocciato gli alunni della campagna in base a quanto emerso dai test invalsi ed il responsabile dell'area covid dell'asla di Salerno e dottor Arcangelo Saggese Tozzi facendo il punto con la stampa della campagna vaccinale che sta riguardando la provincia di Salerno ha sottolineato come a favore della scuola campana ci sia il dato che riguarda la vaccinazione del personale scolastico che ha superato la soglia del 90 per cento intanto dando uno sguardo in generale alla popolazione dell'intera provincia il 60 per cento dei cittadini salernitani ha già ricevuto la prima dose mentre il 40 per cento ha completato con la seconda dose la vaccinazione nei prossimi giorni l'asla intende accelerare proprio sulla somministrazione della seconda dose senza però prevedere al momento altre iniziative di open day per chi ancora non si è vaccinato che anche complice il periodo vacanziero il periodo estivo l'abbassamento della tensione è più problematico diciamo che dobbiamo raggiungere almeno dobbiamo raddoppiare gli attuali ragazzi che abbiamo già vaccinati per stare un pochino tranquilli siamo sui 25 mila 26 mila dobbiamo arrivare almeno 50 60 mila dottore però ipotizzabile che per la riapertura della scuola la copertura vaccinale sarà abbastanza ampia da riuscire a garantire la riapertura in sicurezza in presenza secondo lei noi abbiamo un punto di forza che ci caratterizza rispetto ad altre regioni ma anche nella nostra provincia noi abbiamo vaccinato quasi tutto il mondo scolastico abbiamo vaccinato tutti i professori tutti gli ATA gli ATA gli ATA gli ATA il mondo ATA tutto il mondo scolastico dobbiamo fare questo sforzo sui ragazzi se riusciamo a raggiungere il 50 60 70 per cento dei ragazzi veramente la scuola si può riaprire in sicurezza e con questi numeri ce la dovremmo fare grazie a tutti